Sottraevano illecitamente risorse finanziarie alla società di cui sono amministratori, ma i soci di minoranza dell'azienda hanno deciso di allertare la Guardia di Finanza, la quale, coordinata dalla Procura di Pescara, ha sequestrato beni per 3 milioni e mezzo di euro. Sotto accusa una famiglia del pescarese. Moglie e marito, alla guida di un'importante società che produce e vende macchinari per la pulizia di superfici, dirottavano le risorse verso altre imprese collaterali, tra cui quella del figlio e della moglie di quest'ultimo. Dalla querela dei soci di minoranza, che lamentavano la mala gestio, è scaturita l'operazione Super Clean, ovvero Super Pulito, in riferimento all'attività dell'azienda, ma anche all'abitudine di riciclare il denaro. Un nucleo familiare e imprenditoriale, si legge nel comunicato diffuso dalle forze dell'ordine, dedito alla sistematica commissione di frodi fiscali, reati societari, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza illecita. Le indagini che abbiamo svolto hanno dimostrato tutto questo e ci hanno permesso di disarticolare questo soddelizio criminale che attraverso la falsa fatturazione, il più classico degli strumenti fraudolenti, ha permesso di depauperare questa società per arricchire indebitamente i responsabili di questi comportamenti che sono stati denunciati. Il trasferimento di denaro da una società all'altra avveniva tramite fatture false. Emesse da una società di proprietà proprio degli amministratori sotto accusa, le fatture attestavano l'esecuzione di operazioni del tutto inesistenti. Le risorse poi venivano impiegate per acquistare beni di lusso e per pagare dei viaggi, permettendo ai coniugi, si legge ancora nel comunicato, di condurre una vita da nababbi. Abbiamo proceduto su disposizione del GIP del Tribunale di Pescara ad un maxisequestro. Abbiamo sottratto ai responsabili ben 3 milioni e mezzo di patrimonio illecitamente accumulato. Sequestrati conti correnti, ma anche appartamenti, orologi di marca e auto di lusso. Si tratta del tesoretto più cospicuo recuperato dalla Polizia Economico-Finanziaria da quando il colonnello Caputo, circa quattro mesi fa, ha assunto il comando della Guardia di Finanza della provincia di Pescara.